buongiorno a tutti spettatori appassionati appena iniziato il match tra il follonica gavorrano in maglia blu e viola e la scintilla 1945 in maglia blu la partita è valevole per la finalissima della coppa platino ci si gioca quindi il primo posto il primo il secondo la categoria la 2012 il match è dunque iniziato usare manifestazioni per il sportivo per i più piccoli non intanto arriva il gol della follonica che trova quindi il vantaggio dell'uno zero possesso con l'onica pagliarini va a girare subito riconquista formazione in maglia blu poi spera che rimane lì e quindi gioca in area di vigore la follonica poi arriva il piede di ruscio che risolve una situazione complicata tutta partito ovviamente ancora in belico parte il cross sulla spizzata che esce poi rimessa laterale ho detto risultato ancora di 1 a 0 in questa categoria 2012 è la finale della coppa platino si gioca il primo e il secondo posto lo stesso quindi esce della conclusione che arriva ed esce larga sul fondo dicevamo sta per iniziare il secondo tempo del match in vantaggio l'us follonica gavorrano sulla scintilla per una rete a zero partita quindi ancora ampiamente in belico tra le squadre in campo è la finale della coppa platino ci si gioca il primo posto la categoria la 2012 casami allora va a gestire follonica riconquista palla che poi arriva da di lì che ripropone subito in avanti e trova quindi duraku la palla larga sera fin in scivolata del follonica che riconquista e prova quindi la ripartenza la palla è buona e larga sulla sinistra il tocco al centro c'è malventi e salva qui il gol fa e qui si gioca pagliarini imbattuta e la palla importa che bel gol di pagliarini ed è 2 a 0 con l'onica allora si gioca in avanti palla in campo è venuta ancora in campo e quindi di proposta su prova a vincere il possesso casami sul secondo palo poi arriva la chiusura da parte di mancini che si invola da solo verso la porta avversaria cerca e trova malventi può giocare quindi il follonica la palla ancora per mancini che va al centro trova invece la porta ma la chiace di poco che bella l'azione del follonica scintilla quindi a gestire chiude il follonica ancora possesso scintilla la palla su subito in avanti poi la sfera ancora chiudere la difesa in maglia blu raccoglie il possesso del pallone di fiore poi subito in avanti lì dove c'è mancini che trova il gol del 3 a 0 e l'us follonica ma che può dare un po di pepe a questo finale con milone che intanto dispone la propria barriera per ancora qualche istante allora si può proseguire la palla sul palo un po di sfortuna per la scintilla ancora scintilla a gestire alla larga sulla corsia mancina c'è Serafini che va a puntare il diretto avversario passa Serafini poi si chiudono le maglie viola intorno a lui sono troppi riparte quindi il follonica ma non c'è più tempo e arriva qui il triplice fischio della direttore di gara finisce il match della follonica 3 a 0 per il follonica che vorranno che guadagna quindi il primo posto della coppa platino grazie 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 grazie